Musica Motterone in corso il taglio di un'ottantina di alberi attorno al luogo della tragedia, intervento preparatorio alla rimozione della cabina 6 furbetti del reddito di cittadinanza verbanesi denunciati dai carabinieri insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro Consiglio comunale a Gravellone ha approvato il regolamento sulla street art, interventi per la sistemazione della biblioteca Non sono un murale, sino occasione della giornata europea delle fondazioni, segne di comunità anche a Verbagna, Domodossola e Omenia Al maggiore di Verbagna a ottobre la notte dell'innominato è il concerto dedicato alle vittime del covid e poi c'è piacere cultura 3 del Calvario a Domodostro, una pioggia di emozioni, oltre 200 podisti al via della sesta edizione della Kermesso Ben ritrovati dalla redazione di VCO, notizie in apertura di giornale parliamo della funivia del Mottarone Lo sapete, l'11 ottobre inizieranno le operazioni di rimozione della cabina I vigili del fuoco sono al lavoro per la pulizia dal verde dell'area Intanto da domani si decide la sorte di Eitan, l'unico piccolo sopravvissuto, il tribunale della famiglia di Tel Aviv Riprende a discutere il caso, il giudice dovrà decidere in base alla convenzione dell'AIA Sta procedendo il taglio degli alberi al Mottarone sul luogo della tragedia dello scorso 23 maggio Si tratta di un intervento preparatorio in vista della rimozione della cabina e della testa fusa della funivia precipitata Che è in programma la settimana prossima Sono i vigili del fuoco a tagliare un'ottantina di abeti lungo il ripido pendio Non è ancora stato reso noto il programma della rimozione della cabina Le operazioni inizieranno dall'11 ottobre e comunque il relitto verrà portato via da un elicottero Intanto sul fronte delle indagini si attende la decisione della Corte d'Appello di Torino In merito al ricorso presentato dalla procuratrice Olimpia Bossi sulla scarcerazione da parte del GIP Del gestore della funivia Luigi Nerini e il direttore di esercizio Enrico Perocchio Domani intanto la città di Stresa alle 17.30 in municipio in collaborazione con il Rotary Pallanza Stresa Ringrazierà enti e associazioni che si sono distinti nei soccorsi il 23 maggio scorso Il sindaco Marcella Severino consegnerà 11 targhe in ringraziamento Mentre il presidente del Rotary Club Marco Zacchera segnerà due onorificenze Paul Harris Fellow ai carabinieri di Stresa e ai vigili del fuoco volontari Il club donerà ai vigili del fuoco anche un contributo per l'acquisto di attrezzature Scontro tra un SUV e una moto nella tarda mattinata di oggi a Paruzzaro all'imbocco dell'autostrada Il motociclista è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Borgomanero Sul posto i sanitari della CRI di Arona, la polizia stradale per i rilievi del caso E i vigili del fuoco di Arona intervenuti per la messa in sicurezza dell'aria In seguito alla perdita di carburante dalla moto dovuta all'impatto Hanno anche aiutato i sanitari nel soccorso alla persona ferita E scoperti i nuovi furbetti del reddito di cittadinanza tutti di Verbagna Sei furbetti del reddito di cittadinanza sono stati scoperti e denunciati dai carabinieri della stazione di Verbagna Insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro I sei sono tutti residenti a Verbagna, hanno età comprese tra i 38 e i 61 anni I militari, al termine di una lunga e complessa indagine, li hanno denunciati per indebita percezione del reddito di cittadinanza Incrociando le varie banche dati a disposizione, i carabinieri hanno ricostruito che due di loro avevano dichiarato il falso Presentando le domande per percepire il sussidio Gli altri quattro invece si erano dimenticati di dichiarare le variazioni sopraggiunte nella loro situazione reddituale o familiare Che ne avrebbero determinato la revoca In tutto le somme indebitamente percepite ammonterebbero a 40.000 euro I sei rischiano pene dai due ai sei anni di reclusione Domani a Torino verrà firmato l'accordo di programma quadro per l'area interna Valli dell'Ossola La presenza del ministro per la coesione sociale, del presidente e del vicepresidente della regione Dell'assessore regionale alle attività produttive e ai sindaci del territorio Finalmente ci siamo, il commento dell'onorevole Borghi che spiega di aver seguito dall'inizio la vicenda partita a dieci anni Orsono E sono 208 i nuovi casi di covid in Piemonte con un tasso di positività del 0.9% Il bollettino dell'unità di crisi riporta un decesso non nei territori di Viceno Varese Nuovo lieve calo del numero dei ricoverati In terapia intensiva sono 20, meno 1 rispetto a ieri Negli altri reparti 181, meno 5 I nuovi guariti sono 200 Nuovi casi e focolai attivi di covid sono in riduzione in Piemonte che resterà zona bianca E quanto risulta dal pre-report del ministero relativo ai dati della settimana 27 settembre 3 ottobre La percentuale di positività dei tamponi si conferma all'1% Ed RT puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi a 0,86% Stabile il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e dei posti letto ordinari Entrambi al 3% Nei giorni scorsi la seduta di Consiglio Comunale a Gravello Nattoce Abbiamo sentito il Sindaco per i punti più rilevanti in discussione Un adempimento di legge che c'è in questo periodo che è l'approvazione del bilancio consolidato Ma questo era più che altro un atto dovuto Poi c'è stata anche l'approvazione finalmente del regolamento sulla street art Perché da quest'anno abbiamo sentito l'esigenza di approvare un regolamento in questo senso In seguito alcuni interventi che avevamo favorito per coprire delle scritte piuttosto vergognose E poi c'era stata la bellissima esperienza con quello che è stato fatto al Boroli In collaborazione con il GSH e le altre associazioni E quindi abbiamo pensato di approvare un regolamento per favorire e stimolare questo tipo di attività Stando dentro al perimetro di quello che è stato definito, giusto per partire E poi abbiamo anche fatto la ratifica di una variazione di bilancio che avevamo recentemente approvato in giunta Con cui abbiamo messo a disposizione una parte dell'avanzo di amministrazione vincolato per investimenti Per fare alcuni lavori di adeguamento di questa biblioteca Che necessita di alcuni interventi per la messa in sicurezza e per la manutenzione straordinaria E poi abbiamo approvato anche contestualmente la variazione per finanziare l'accordo di programma Con i comuni di Baveno e Verbania per progettare un intervento strutturale sull'asta dello Stronetta Che tenga conto anche degli affluenti per arrivare finalmente dopo anni di grandi problemi Ad un progetto che poi possa essere finanziato per prevenire fenomeni come quelli che ci sono stati l'anno scorso L'appuntamento del giovedì con Donare per Crescere in collaborazione con Fondazione Comunitaria VCO Nell'ambito della giornata europea delle fondazioni che si tiene ogni anno il primo di ottobre L'iniziativa non sono un murale se segni di comunità Inaugurati nel VCO tre lavori realizzati con la collaborazione delle scuole a Verbania, Domodossola e Omenia Quest'ultimo ve l'abbiamo già mostrato proprio lo scorso venerdì Ora è la volta dei lavori realizzati dai ragazzi e da loro insegnanti Su stimolo di Fondazione Comunitaria VCO a Verbania all'ingresso dell'Emporio dei Legami a Domodossola Come è nato il progetto di questo muralist? Ci è stato commissionato questo progetto che si trattava di riprodurre un'opera dello street artist LDB che sta per Lorenzo Di Bari Quindi è attraverso la tecnica dello stencil che appunto riproduce una figura adulta che compie un gesto semplice di amore quotidiano Nei confronti di un bambino che sta per intraprendere il suo percorso di vita Quindi noi il messaggio che abbiamo voluto trasmettere è appunto quello di come un semplice gesto Per alcuni può fare una notevole differenza per tanti altri, quindi per l'intera comunità e per le persone più fragili C'è un significato anche nella scelta dei colori e c'è anche un QR code Il significato dei colori è un contrasto cromatico molto forte che sono il viola e il giallo Abbiamo utilizzato questo contrasto proprio per incuriosire il passante in modo tale che si fermasse Per inquadrare il QR code e approfondire un attimino quello che è l'idea di questo muralist È stato emozionante anche perché abbiamo lavorato tutti insieme in gruppo, ci siamo divisi i compiti E' anche strano lavorare per noi, lavorare a mano sui muri perché siamo abituati in digitale Si tratta di un progetto che ha coinvolto tutta Italia e che la fondazione comunitaria ha voluto anche nel VCO Sì, sono circa 120 luoghi in Italia dove sono stati realizzati in maniera personalizzata dei murales con lo stesso soggetto Il soggetto rappresenta una persona più adulta o comunque più autonoma Che aiuta qualcuno che ha invece bisogno di essere reso più autonomo E in questo senso rappresenta sia il ruolo di ciascuno di noi all'interno della comunità Sia il ruolo della comunità nei confronti dei soggetti più deboli Sia in un certo senso anche il ruolo delle fondazioni all'interno delle comunità stesse Un'iniziativa importante, un orgoglio aver partecipato a questa giornata europea delle fondazioni E grande soddisfazione anche per l'opera realizzata dai ragazzi Sì, davvero dobbiamo mettere insieme tutte queste cose La giornata europea delle fondazioni, il lavoro dei nostri ragazzi Fatti appunto come liceo artistico da un lato L'intervento poi appunto anche delle professoresse che li hanno sostenuti Attraverso un linguaggio che è appunto quello dell'arte Io credo molto in questa cosa, cioè l'arte è veramente un linguaggio universale Che riesce a sfondare ogni barriera E tante volte noi appunto abbiamo questo problema di come comunicare tra generazioni Oggi è un tema molto forte questo E l'arte si rivela davvero, poi soprattutto con concetti così forti come il concetto di legame Il concetto di dono, di comunità, di partecipazione Di questo passaggio di consegne tra i giovani O meglio ancora tra un padre e il proprio figlio Sono temi che i ragazzi hanno interpretato molto bene E i ragazzi hanno sentito sulla loro pelle Il nostro ruolo è stato quello di contattare le scuole E devo dire che la risposta è stata davvero per noi entusiasmante Contemporaneamente in tutti e tre i capoluoghi della nostra provincia tripolare Verbagna, Omenia e Domodossola Si è svolta questa cerimonia Ed è una bellissima cosa Perché soprattutto abbiamo contattato il mondo dei giovani e della scuola Perché è a loro che dobbiamo rivolgerci Noi siamo nati soprattutto per promuovere la cultura del dono Ecco, se riusciamo a far sì che i giovani donino se stessi a questo grande diario di solidarietà Abbiamo realizzato gran parte del nostro scopo Ed ora vi raccontiamo il progetto Come Together dei Parkinsoniani VCO Come Together, un progetto in collaborazione con altre realtà Che si occupano di Parkinson su tutto il territorio piemontese È un progetto importante che ha portato alla realizzazione di questo opuscolo Parkinson Sono istruzioni per l'uso Abbiamo pensato di fare rete tra diverse associazioni Che troverete sull'opuscolo Chiaramente non ve le elenco Perché i problemi in effetti sono uguali un po' per tutti Insomma, la malattia di Parkinson La malattia neurodegenerativa La quale richiede soprattutto un supporto farmacologico Ma molto è importante l'aspetto delle attività motorie E quindi abbiamo pensato di fare questo progetto Che è un progetto Come Together Che è chiaramente la classica parola inglese Però vuole far sì che tutte queste associazioni abbiano lo stesso progetto L'opuscolo è un vademecum importante Che noi vorremmo distribuire a tutte le farmacie Perché sappiamo che nel nostro territorio ci sono diversi ammalati E vorremmo far sì che questi ammalati sappiano che c'è un'associazione Che è disponibile ed è presente per dare quel supporto delle attività motorie Chiaramente noi siamo strutturati con diverse palestre E abbiamo anche la possibilità di avere degli struttori qualificati Riletto a quella che è la malattia di Parkinson Le attività motorie servono per contrastare e cercare di rallentare questa malattia difficile Ci sono tante attività motorie che si possono fare Però io penso che la migliore ed è stato anche messo in evidenza L'ultimo convegno che siamo andati con tutte le associazioni a Piella È il northern walking o camminata con i bastoncini Progetto positivo e meglio dell'associazione culturale Navasco Che riaccende l'attenzione sulla tematica del cancro al seno Scopo principale del progetto è promuovere una raccolta fondi per l'acquisto di attrezzature Per il reparto di oncologia locale Il primo appuntamento di ottobre è Chiamalo col suo nome Spettacolo teatrale di Domenico Rondinò A favore dell'oncologia del VCO In programma sabato 9 ottobre al teatro La Cappuccina a Domodossola Alle ore 21 capita ogni tanto di trovarsi di fronte a persone colpite da un cancro L'imbarazzo è totale Il monologo affronta l'argomento in modo semplice e diretto È necessaria la prenotazione per partecipare al numero 351 17 61 969 O tramite email navasco1 chiocciola virgilio.it Specificando i nominativi delle persone Ingresso libero ma con green pass Ed ora siamo ai prossimi appuntamenti al teatro maggiore di Verbagna Ancora due appuntamenti come ponte tra la stagione estiva e quella invernale Che sarà presentata a fine mese per il teatro in maggiore Due eventi importanti che saranno anche un'occasione per riflettere e ritrovarsi Si comincia il 17 ottobre con la notte dell'innominato Spettacolo teatrale tratto dai promessi sposi di Alessandro Manzoni Con regia e adattamento di Daniele Salvo e protagonista Eros Pagni L'attore uno dei maggiori interpreti del teatro italiano racconterà la notte della conversione dell'innominato La produzione del teatro degli incamminati Pagni sarà accompagnato da altri attori E da proiezioni in videomapping I biglietti sono in vendita sul sito del teatro Il 23 ottobre toccherà la musica classica con In Memoriam Concerto dedicato alle vittime del Covid Il maestro Mauro Trombetta dirigerà l'orchestra dei Colli Morenici Con il coro San Gregorio Magno di Trecate In programma il requiem di Puccini e il transitus anime di Perosi L'ingresso sarà libero con prenotazione tramite mail all'indirizzo segreteria-el-maggioreverbagna.it La nuova stagione sarà presentata invece a fine mese dichiara la presidente della fondazione il maggiore Rita Nobile Ci siamo resi conto che il pubblico è cambiato sia dal punto di vista delle abitudini che della psicologia con cui le persone si avvicinano al teatro Questi saranno due eventi emozionanti che ci coinvolgono partendo dalla peste di Manzoni che ci riporta tanto alle situazioni che abbiamo vissuto Avevamo pensato di prenderci una pausa fino a novembre spiega la direttrice artistica Renata Rapetti ma abbiamo ricevuto queste due proposte che proprio non potevamo rifiutare Rapetti fa anche un bilancio della stagione estiva che si è da poco conclusa Siamo stati coraggiosi o incoscienti a proporre dieci spettacoli alcuni dei quali sono andati molto bene altri sono stati penalizzati dalla pioggia che si è unita al covid e che ha limitato moltissimo i posti I risultati nel complesso sono stati più che positivi Ma il Maggiore in questo mese vede anche il ritorno di Piacere Cultura per parlare di museologia del presente Tre le date, sabato 9, 16 e 23 ottobre Tre giornate per stilare un nuovo Vademecum per teatri e musei chiamati a reinventarsi all'indomani della pandemia Ad aprire gli incontri sarà una tavola rotonda con gli esperti mentre il pomeriggio sarà dedicato a workshop e laboratori pratici aperti a tutti Si comincia dicevamo il 9 ottobre con l'incontro La cultura e responsabilità sociale Parola d'ordine, inclusione L'inaugurazione di una nuova clinica veterinaria a Domodossola è stata l'occasione per parlare con gli esperti di nuove frontiere della cura dei nostri amici animali ma anche di come è cambiato in questi ultimi anni il nostro rapporto con loro L'inaugurazione ufficiale della clinica veterinaria a città di Domodossola diretta dal dottor Federico Cavalli Al di là del taglio del nastro incontri molto interessanti con dei temi da sviluppare uno su tutti, il veterinario del passato, il veterinario del presente e quello che sarà il veterinario del futuro Si, questo seminario vuole un attimino fare il punto sull'arte veterinaria La veterinaria è partita tantissimi anni fa e ha avuto un'evoluzione molto molto importante dai primi veterinari del 1600 abbiamo addirittura masterizzato un libro del 1600 il quale può essere disponibile, un libro che era quasi perduto e parleremo del presente quindi con la TAC per esempio la diagnostica per immagini che anche in veterinaria è possibile appunto realizzare e poi Alessandro Ardis parlerà invece del futuro il futuro che è la robotica che è già il presente in alcuni ospedali italiani, mondiali Presentate anche un progetto, presenti un progetto, sei anche relatore insieme a Rotary Milano Est Di cosa si tratta? Assieme al professor Carlucci che è primario dell'ospedale San Raffaele a Milano abbiamo proposto questo progetto che è stato avvallato appunto dal Rotary Club di Milano Est con il quale appunto questa partnership prevede la possibilità di fare delle cure per dei cani particolarmente problematici e in parte il Rotary dà dei fondi appunto per diciamo parzialmente sostenere le cure Com'è cambiato il rapporto anche con i padroni dei nostri amici a quattro zampe? Io ho visto un po' l'evoluzione della veterinaria in quanto ieri ho fatto 25 anni dalla mia laurea e in questi 25 anni ho visto un'evoluzione enorme, un'evoluzione sia nelle tecniche diagnostiche sia nelle tecniche chirurgiche ma soprattutto nel rapporto con il cliente Prima il cane era un animale che stava in una cuccia fuori dalla porta adesso molte volte sta nel letto del padrone e quindi il rapporto è completamente cambiato il nostro amico quattro zampe è ormai diventato un membro della famiglia e quindi merita le attenzioni appunto del caso Appuntamento per gli appassionati di montagna domani venerdì all'Ossola Outdoor Center di Crevola d'Ossola ospite l'alpinista e regista Mario Vielmo che racconterà i suoi 12 8 mila l'incontro inizia alle 18 e l'evento è a partecipazione gratuita in apertura di pagina sportiva il trail del Calvario una pioggia di emozioni con oltre 200 podisti al via Se pioggia c'è stata non è stata solo quella scesa dal cielo ma una pioggia di belle emozioni quella degli organizzatori dell'Atleti Cabiso Sorana per essere riusciti a concludere una manifestazione dopo due anni di annullamenti forzati quella di chi ha corso lungo un attracciato in breve tratti insidioso per il fango ma nel complesso spettacolare e suggestivo quella poi delle tante persone sul percorso che hanno voluto sostenere gli atleti quella di chi correndo o camminando ha incontrato sulla via Crucis uno striscione col grande sorriso di Davide Bolognini il bolo che da lassù ha forse contribuito a evitare che la pioggia si trasformasse in diluvio ma si mantenesse in ambiti tutto sommato accettabili se festa in famiglia doveva essere festa è stata ad aggiudicarsi da 18 chilometri a coppie maschili infatti sono stati i fratelli Claudio e Francesco Guglielmenti di Prato Sesia prima tra le donne la coppia e la quale distresa Giulia Ronchi e Consuelo Vicari mentre per la coppia mista l'affermazione è andata a due migo Solani Paola Varano e Alessio Beltrami nella 10 chilometri individuale maschile primo al traguardo l'antigoriano Fabio Cappelletti mentre in campo femminile la vittoria ha riso alla gravellonese Chiara Cervini e per continuare la festa sono stati numerosi i premi speciali assegnati nella 18 chilometri Claudia Cartini ed Ivano Rolandi si sono aggiudicati il premio per il gemellaggio con la gara di Gezzina della Sfadia che si è corsa a giugno avendo entrambi partecipato alle gare lunghe delle due manifestazioni Mauro Punchia e Massimo Punchia si sono aggiudicati il premio in memoria di Davide Bolognini che spettava la 51esima coppia arrivata il lavoro avrebbe compiuto 51 anni quest'anno il premio in memoria di Maurizio Cheula rimpianto il promettente giovane atleta di Gezzino destinato alla prima coppia composta da atleti a Visini è andato a Fabio Montanari ed Antonio De Lucia il premio in memoria del meccanico dovese Peppino Bruno a sorteggio destinato a due a Visini e Solani è stato vinto da Enzo Cottone e Sara Montini per la 10 chilometri sempre in memoria di Peppino Bruno i premiati sono stati due a Visini e Solani Massimo Brunelli ed Aurora Quartero il premio speciale alla famiglia più numerosa in memoria di Riccardo Di Leonardo altro rimpianto atleta dal perenne sorriso e dal grande altruismo è stato vinto dalla ormai veterana sempre presente famiglia Godio composta da papà, tre giovani figli e il cane in fine il premio all'atleta proveniente dal paese più lontano al colombiano Juan Manuel Ruiz Jimenez parte dal ricavato della manifestazione andrà in beneficenza ad Anfas VGO mentre la generosità di molti polisti ha consentito di raccogliere scarpe usate destinate al centro aiuti per l'Etiopia di Verbagna Il turno infrasettimanale nel Serie D lancia le ambizioni della Casale e della Novara i nero stellati nel Big Match hanno battuto in rimonta 2-1 la Sanremese mentre gli azzurri con un gran secondo tempo approfittando anche dell'inferiorità numerica dei padroni di casa hanno regolato 2-0 l'Imperia a segno il solito Wutai che si conferma giocatore di categoria superiore e Bortoletti per la seconda vittoria consecutiva della formazione allenata da Marchionni Il Gozzano d'accanto suo è tornato da Franco Ossola di Varese con un appunto prezioso che mantiene l'imbattibilità di Rosso Blu in accampionato una vittoria e tre pareggi per i ragazzi di Mister Schettino che hanno saputo rimettere a posto le cose dopo il vantaggio nel corso del primo tempo firmato da Pastore il pareggio definitivo del 2004 a San Giorgio viene anche il Borgosesia che dalla Fausto Coppi di Tortona ha strappato un prezioso 1-1 che porta Granata a quota 3 in classifica Borgosesia che questa volta però è stato capace di rimontare il vantaggio di Filippo nel corso del secondo tempo nella ripresa ha pareggiato a Reco appunto portando un punto importante per la classifica di Granata Il ciclismo a margine della Trevalli-Varesina abbiamo incontrato l'ossolana Francesca Barale per un punto sulla stagione Oggi era l'ultima gara su strada perché sabato faccio la cronosquadra e poi ho finito la stagione è stata una bella stagione un po' su e giù devo dire sono andata bene qualche risultato speravo di farlo in più soprattutto agli ultimi mondiali però va bene oggi sono contenta del piazzamento che ho fatto un quarto posto agli europei ti sei ben districata ai mondiali insomma non male no? Sì sì comunque sono lì ai mondiali ci volevo un po' più di fortuna però comunque dai va bene Senti adesso passi elite team DSM gran bella scelta perché è una squadra tra le più importanti primi obiettivi crescita e poi cosa ti piacerebbe combinare tra le grandi? Ma sicuramente primo anno sarà più tranquillo almeno fino a giugno perché quest'anno ho la maturità quindi intendo finire bene la scuola e poi vedremo Ma il sogno nel cassetto Francesca Barale ce l'ha o no? Vabbè il sogno nel cassetto di tutti è il mondiale Buttalo buttalo un mondiale È tutto grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi